E tante cose belle per vedere, in Italia, in Italia, e tante cose buone per mangiare, in Italia, in Italia, e quella gente sempre sempre a cantare. E l'amore, e l'amore, e quella gente sempre sempre a cantare, tutto il cuore, tutto il cuore, e tante cose belle per amare, in Italia, in Italia. A vari di leva você a Italia e toda Europa diariamente, con la tarifa ponto a ponto, 30% o mais economica.